Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Allora, sto facendo una prova con questo microfono, quindi non fateci caso, perché l'altro microfono, sì, aveva un po' di problemi, ogni tanto era perfetto, ogni tanto si sentiva basso, quindi sì. Cercherò di non muovermi troppo, perché non so quanto sensibile sia questo microfono. Però, siamo capi ad un nuovo video! Yay! Allora, ciao a tutti, benvenuti, sono Doina, mi conoscete già, I guess, se non mi conoscete. Hello, sono Doina. Allora, oggi farò un video che in realtà è stato ispirato da un commento che ho ricevuto su uno dei miei ultimi TikTok. In realtà era un video che pianificavo da tempo, però poi ho lasciato stare l'idea, ma poi ho capito che forse ce n'è bisogno. Allora, oggi parleremo un po' della differenza tra sostenibilità e minimalismo, cioè quindi se sono effettivamente la stessa cosa oppure no. Quindi oggi parleremo di effettivamente quale sia la differenza tra sostenibilità e minimalismo, perché secondo me la gente un po' intercambia questi termini, un po' come biodegradabile compostabile a mio parere. E oggi parleremo un po' di effettivamente se ci sono delle differenze, se è la stessa cosa, se tutte le persone sostenibili sono minimaliste e se tutte le persone minimaliste sono effettivamente sostenibili. Un discorso del genere si può fare anche con sostenibilità versus vegan, che potrebbe essere interessante anche quello se vi interessa. Allora, quindi, ho fatto un TikTok recentemente, non so se mi seguite su TikTok, se mi seguite grazie mille, se non mi seguite c'è il link qua, se per caso avete TikTok, se non ce l'avete non scaricatelo solo per me. Come se qualcuno lo facesse, doina. Allora, in questo TikTok stavo parlando di modo sostenibile e ho fatto il TikTok sullo sfondo di mi Funko Pop, cioè c'è un muro enorme qua di Funko Pop. E qualcuno ha commentato dicendo, sì però hai la collezione di Funko Pop, quindi così sostenibile non lo sei, no? E ha messo tipo le emoji che ride. Io non mi sono offesa per questo commento, però ho risposto al commento in ogni caso perché ho detto, siccome questo genere di commento arriva spesso sotto i video delle persone che parlano di sostenibilità, qualsiasi cosa tu dica la gente ti dirà, eh ma tu hai questo, eh ma tu fai questo, eh ma tu fai quest'altro. Questo commento non era offensivo, ma ho risposto perché volevo chiedere le cose. E ho detto, cioè, dobbiamo, arrivateci un attimo del fatto che una persona che inizia a parlare di sostenibilità e che è diventata sostenibile negli ultimi due, tre anni, negli ultimi sei mesi, nell'ultimo anno, aveva una vita prima. Che po', che la maggior parte di quelle è stata una vita piena di consumismo. Ehi! Anch'io in primis, compravo tante stronzate, compravo tante cose, cose di cui non avevo bisogno, ero una di quelle. Quindi quando sono passata alla sostenibilità ho detto, ok, ci sono delle cose in casa mia che forse non ne ho più bisogno, forse potrei vendere, forse potrei regalare, forse potrei donare. E quindi mi sono sbarazzata di alcune cose, no? Ma i miei Funko Pop no! Io adoro i miei Funko Pop! Tantissimi di questi Funko Pop me li hanno regalati, tantissimi li ho comprati io, però ho smesso di comprarli. Cioè, nell'ultimo anno ho ricevuto Funko Pop in regalo perché volevo quei Funko Pop ma allo stesso tempo non volevo comprarli allo stesso tempo, cioè non volevo comprarli, diciamo, però me li hanno regalati lo stesso. Quindi se una persona mi regala un Funko Pop, soprattutto un Funko Pop di che mi piace, non gli dirò come ti permetti perché sarò molto felice della cosa, sì! Quindi ho risposto dicendo che sì, appunto, una persona può essere passata al lato della sostenibilità ma questo non significa che debba buttare via tutte le cose non sostenibili. È un po' come la gente che passa a usare makeup cruelty free e buttano via tutto quello che non è cruelty free. Non fatelo, cioè usate ciò che avete e poi passate a una cosa migliore. È un po' come la regola della sostenibilità. Stessa cosa per chi magari smette di comprare fast fashion e inizia a buttare via i vestiti. No, non si fa così! Non è sostenibile buttare via cose per comprare altre cose. È assolutamente il contrario dell'essere sostenibile. Però, tipo, poi, dopo aver spiegato questo video, ha continuato dicendo sì, però, tipo, queste cose non ti servono più, solitamente, tipo, ha tirato in ballo il minimalismo, che solitamente i minimalisti buttano via tutte le loro cose. Allora, partiamo anche là da un concetto base che, secondo me, le persone hanno un po'... non sanno bene cosa voglia dire minimalismo e hanno un po' un concetto sbagliato, a mio parere, del minimalismo perché non vanno a informarsi, principalmente. Ci sono video su YouTube, purtroppo, di gente che ha fatto video sul minimalismo giudicando il minimalismo senza effettivamente informarsi su cosa effettivamente sia il minimalismo, il che è molto sbagliato. Però il minimalismo, semplicemente, è nato come, diciamo, per contrapporsi al consumismo. Quindi cercare di vivere con meno possibile, quindi andando un po' contro questa società capitalista in cui viviamo. Quindi i minimalisti non è... ci sono gli minimalisti che si definiscono minimalisti estremi, che sono appunto quelli che a momenti non hanno neanche i mobili in casa, però hanno una casa, per esempio, non è che vivono nei boschi, però che si sono sbarazzati di tutto. C'è una ragazza su YouTube che fa un sacco di video su extreme minimalism e lei praticamente non possiede più niente. Possiede, tipo, una cosa come 15 capi di abbigliamento in tutto, tra mutande, calzini e cose, uno zainetto non ha mobili in casa, ha solo un Kindle e ha solo un tablet. Mi dispiace, questo non è il stile di vita che io voglio promuovere. Io non ce la farei. Non ce la farei. E lo credo di averlo già detto in un video in cui ho parlato di cosa ne penso del minimalismo. Io non mi considero minimalista, però cerco di essere minimalista in certe cose della mia vita. E sapete qual è la cosa? È che io sono più minimalista di quello che ero prima di passare al lato della sostenibilità. Quello poco mi assicuro. Però qual è effettivamente la differenza tra queste due cose? Prima di tutto, la sostenibilità, solitamente qualcuno inizia a parlare di zero waste, sostenibilità, quando si interessa a tematiche ambientali. Quindi solitamente si parte sempre da quello. Cosa che invece è il minimalismo, è una cosa in cui decidi che sei troppo sopraffata da tutto ciò che possiedi, vorresti vivere con meno, vorresti lasciare andare tante cose che ti tenevano aggrappata, diciamo queste cose, e vorresti un po' più di tranquillità. Quindi molte persone minimaliste dicono di sbarazzarsi di molte cose da propria vita, perché non vogliono avere cose che li distraggono, che non c'è niente di sbagliato. Poi ci sono anche quelli più estremi, che proprio si sbarazzano di tutto. Però, se avete visto il documentario The Minimalist, loro parlano anche di questa cosa, che tu da minimalista, tu puoi essere minimalista in ogni cosa della tua vita, però potresti avere comunque una collezione di cose, perché c'è una cosa che ti piace. Perché proprio nel documentario c'è un signore che dice, scusa, ma io tipo che amo leggere, cos'è, non posso essere considerato minimalista. No! Se c'è una cosa che tu ami, che ti piace fare, che è una tua passione, se tu decidi di avere mille libri in casa tua, però di avere tipo tre tazze, potresti essere comunque considerato minimalista, perché comunque stai comprando delle cose, con una cosa che ti fa piacere, non perché qualcuno ti sta dicendo, devi comprare questa cosa, se non possiedi tipo 50 piatti, piatti per ospiti, 50 moche, 50 cose, e allora no, non va bene. Cosa che invece i libri è una cosa che ti arricchisce, perché leggi un libro, ti piace, lo rileggi, lo ripoggi, hai una bellissima biblioteca in casa, cioè i libri sono belli, quindi non c'è niente di male. Ci sono anche gli minimalisti che addirittura hanno detto che loro non guardano Netflix, che non hanno abbonamenti, che proprio hanno deciso di togliersi da ogni cosa divertente, chiamiamolo così, e anche lì, chi siamo noi per giudicare? Perché queste sono scelte personali. Quindi diciamo che il minimalismo parte più da una cosa un po' più, secondo me, un po' più profonda, più che altro di se stessi, un po' più un lavoro su se stessi che su effettivamente dire voglio salvare il mondo, cosa che invece la sostenibilità è un po' quello. Iniziamo a informarci su tematiche della sostenibilità, iniziamo a leggere articoli, a vedere documentari, a vedere cose, a capire effettivamente dove possiamo fare i nostri cambiamenti. Quindi tipo una persona sostenibile, non detto che sia minimalista, ma stavo dicendo che il minimalismo può benissimo essere una conseguenza della sostenibilità perché magari uno inizia veramente a riflettere bene su ciò che vuole portare nella sua vita e ciò che non vuole portare nella sua vita. Però non è detto che vogliano avere una casa con pochi mobili, non è detto che non vogliano avere la tv, non è detto che non vogliano avere un salotto figo, non vuol dire che vogliano dei mobili tutti bianchi, ok? Perché anche quello, cioè io posso benissimo avere una casa sostenibile e minimalista e comunque comprare cose tipo vintage, quindi avere tipo uno stile tutto mio, però se non è bianco allora non è minimalista, ma non diciamoci stronzate. Quindi secondo me c'è un po' di confusione. Io per esempio ho visto video di tanti minimalisti e ci sono tanti minimalisti che magari ti dicono l'unica cosa che sanno dirti è butta via le tue cose, butta via questo, butta via quest'altro, non hai bisogno di questo. Anche questo non credo che sia proprio la cosa più sostenibile al mondo, nel senso che se continui solo a buttare via e magari dopo rimpiazzi quella cosa perché decidi che ospetta forse avevo bisogno di quella cosa. Va benissimo sbarazzarsi delle cose che non si ha bisogno, l'ho fatto anch'io assolutamente, i declutter sono una tocca sana a mio parere, soprattutto per chi magari è stato un accumulatore seriale, però non è detto che tipo rimanere con poche cose e tipo se non ti rende felice rimanere con poche cose non è proprio la via più giusta. E anche ho visto allo stesso tempo anche i minimalisti che magari compravano comunque da brand fast fashion, che non erano vegani, nel senso il minimalismo non c'entra con la sostenibilità, è una questione proprio di una lavorazione su se stessi, è più una cosa personale. Come anche appunto molte persone sostenibili non sono minimaliste perché dicono a me piacciono i vestiti, continuo a comprare i libri, magari li compro usati ma continuo a comprarli. C'è anche questa roba del second hand comunque non è detto che valga, anche stessa per cosa per i minimalisti, non è detto che una persona minimalista si interessa alla fast fashion e decida di comprare solo usato. Ci sono anche quelli tipo Spazio Grigio, Irina di Spazio Grigio, lei è vegana, compra veramente pochissime cose, è una casa splendida a prescindere anche dal fatto che ha pochissime, io a casa sua la adoro, è tipo la mia futura casa perché anche io adoro avere poche cose, adesso magari vi ricorderete dietro il tercassostai di, però vivo non è affitto raga, questo non è casa mia, però tipo allo stesso tempo lei aveva fatto un video su cose che lei non compra più, che non possiede più, tipo ha detto io non ho più abbonamenti Spotify, Netflix, queste cose qua perché sono uno spreco di soldi, questo non sono d'accordo, oppure non vado al cinema perché è uno spreco di soldi, su questo non sono assolutamente d'accordo, ma allo stesso tempo è il suo modo di fare, il suo modo di vivere e chi siamo noi per giudicare, quindi lei per esempio la considero una minimalista sostenibile proprio perché ha cambiato anche la sua alimentazione proprio perché era ispirata dal minimalismo quindi ha voluto essere minimalista anche nella cucina quindi lei per esempio la trovo che sia una minimalista sostenibile però lei non è che parla di cose sostenibili non parla di tematiche legate all'ambiente parla di più che altro di lavorazione su stesse crescita personale tutto quanto che però può portare a essere più sostenibile quello assolutamente quindi a mio parere questi due mondi sostenibilità e minimalismo si incontrano si incontrano si incontrano una certa non è detto che abbiano 50.000 cose in comune non è detto che un minimalista si interesse all'ambiente come non è detto che una persona che si interessa all'ambiente si interesse effettivamente ai principi del minimalismo però non andrebbero confuse le due cose a mio parere cioè sono due cose completamente diverse sono due modi di vivere diversi quindi per dire che bisogna un attimo differenziare le due cose è anche capire appunto che non andare a trovare che se segui una persona che parla di minimalismo che lei effettivamente affronti cose ambientali perché non lo farà però potresti trovare una persona sostenibile che prende tantissimo dal minimalismo per esempio io adoro tantissimo la cosa del se compri una cosa una cosa se ne deve andare in questo modo tu capisci effettivamente c'è una cosa alla quale voglio rinunciare o non c'è oppure anche il fare declattere capire ciò che ci rende felici quello che sparkles joy e bla 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 quindi sì secondo me è più probabile che una persona sostenibile sia vicina al minimalismo piuttosto che una persona minimalista sia vicina alla sostenibilità non so se mi spiego però come detto questo discorso si potrebbe fare benissimo anche con i vegani quindi vegani e vegetariani posso anche farlo perché appunto posso parlare in prima persona e niente quindi spero di aver chiarito più o meno queste cose non so se effettivamente ho chiarito questa questione però per dire che ci sono tante cose belle del minimalismo io vi consiglio tantissimo il documentario secondo me è stato molto carino vi consiglio anche di leggere dei libri sulla questione perché è molto bello tante di quelle tematiche che troviamo lì potreste trovarle anche comunque quando si parla di sostenibilità però secondo me è una cosa molto più personale l'ho già detto 50.000 volte Doina finisce il video quindi bene spero che questo video vi sia piaciuto fatemi sapere cosa voi ne pensate se avete mai intercambiato i termini o se pensavate che fosse la stessa cosa e niente fatemi sapere noi ci vediamo la prossima volta e ciao